È un'indagine che è stata seguita dalla spra mobile di Vibo e dal commissariato di Serra San Bruno con la collaborazione dello SCO e che è stata diretta dalle colleghe Frustace e dalla collega Liberti che è della procura di Vibo applicato alla DDA proprio per testimoniare questa collaborazione fra le due procure finalizzata ad un controllo dei fatti delittuosi che qui a Vibo, come diceva il procuratore prima, per le articolazioni di indrangheta che sono presenti sull'intero territorio sono numerose. L'indagine nasce appunto dal tentato omicidio di Nesce Giovanni Alessandro che seguiva da un mese la morte, l'omicidio di Inzillo Salvatore. Quello che abbiamo registrato è stata una tensione continua all'interno del gruppo degli Inzillo che era finalizzato ad eliminare quello che ritenevano il responsabile di quell'omicidio. Gruppi di famiglia Inzillo da una parte di famiglia Nesce dall'altra che noi collochiamo all'interno dell'ambito della faida risalente nel tempo tra Ilo Ielo e Emanuele. Quello che abbiamo registrato è stato in questa indagine in particolare un ruolo propositivo attivo delle due donne fermate che non si limitavano all'occultamento delle armi, al riperimento dell'occultamento delle armi e di cui loro stessi ammettono detenzione e occultamento ma anche a questi propositi omicidiari che vengono rafforzati continuamente, vengono inculcati negli altri appartenenti alla famiglia con esternazioni anche violente che sono rivolte all'eliminazione fisica di appartenenti a quella famiglia. Ci siamo determinati ad agire sia in ragione di un pericolo concreto di fuga che derivava dall'invenimento di alcuni microspie che davano conto delle indagini e dall'utilizzazione di alcuni immobili abbandonati nei quali potevano nascondersi e che venivano utilizzati anche per l'occultamento delle armi. Ed anche perché appunto era palpabile questa tensione, questa ricerca di vendetta che peraltro recentemente nel gennaio scorso era culminato in un agguato che poi non è stato portato ad ulteriori conseguenze perché uno dei responsabili era stato avvistato accidentalmente da un membro della famiglia Anesci e che aveva determinato l'allontanamento dal luogo di questi soggetti. Sono tutti episodi che evidentemente ci rendevano necessario un intervento perché era costante e continua questa tensione all'eliminazione fisica di altri appartenenti della famiglia Anesci. L'omicidio di Lazzaro Bruno per cui procede la procura di Vibo, la procura di Vibo Valencia, non rientra assolutamente in questo scontro fra famiglia Anzillo e famiglia Anesci. È un dato naturalmente elettuoso che si è determinato che indirettamente alimentava la tensione presente in quell'ambito familiare ma nulla a che vedere per quanto ci risulta allo stato delle indagini con quelle dinamiche di vendette e di fada in cui si collegano i tentativi di omicidio di Nesci Giovanni Alessandro e di Inzillo Salvatore. Le risorse che il capo della polizia ha ritenuto di mettere a disposizione della questura di Vibo, risorse qualificatissime, parliamo di 11 ispettori, il procuratore non aveva avuto l'aggiornamento sul numero, sono stati tutti destinati alla squadra mobile, 10 qui e una alla squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Serra San Bruno. Ma ritengo sia una scelta doverosa, assolutamente necessaria, perché oltre al materiale rafforzamento della squadra mobile, in termini di numeri, in termini di professionalità, perché come ripeto sono quelli congettati recentemente da quest'ultimo corso qua proprio dalla scuola di Vibo, che noi stessi funzionali della questura di Vibo abbiamo provveduto a formare la nostra attività anche di docenza, ma è un segnale chiaro, nel senso che la questura di Vibo è sempre più impegnata in una lotta veramente alle cosche, fatte condotte in maniera costante, continuando il tempo, estremamente professionale, nei limiti chiaramente delle nostre capacità. Sì, oggi abbiamo ottenuto un grande risultato che ha rappresentato evidentemente il frutto di otto mesi di indagine, dove tutti gli uomini della squadra mobile, del servizio centrale operativo e del commissario di Serra San Bruno hanno veramente dato il massimo garantendo effettivamente un risultato senza precedenti. Effettivamente nella giornata di oggi sono stati impiegati oltre 100 uomini, questo proprio a dimostrare quanto fosse importante intervenire in maniera convinta e forte all'interno appunto del territorio di Serra San Bruno.